Musica Muletto si capovolge, morto pensionato nel Regino. Un pensionato di 79 anni, GD, è morto stamani a Polistena dopo essere rimasto schiacciato da un muletto all'interno di un terreno di sua proprietà. Le cause sono in corso di accertamento. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, stava facendo dei lavori per spostare del materiale all'interno di un capanno in contrada greca, quando il mezzo si è ribaltato provocando la sua morte. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Staletti, scompare la giovane Sabina vestuto, donati i suoi organi. Una giovane vita spezzata improvvisamente ci ha lasciato Sabina vestuto, deceduta presso il reparto di rianimazione dell'ospedale pugliese di Catanzaro per ischemia cerebrale. La famiglia, in un momento di grande dolore, ha pensato ad un grande gesto, la donazione degli organi. Il papà Giuseppe e il fratello Claudio, accogliendo l'invito dei sanitari con grande senso civico e spirito di fede cristiana, hanno detto sì al prelievo del suo fegato, dei suoi reni e delle sue corne, ai fini di trapianto. In seguito a questo dono, più persone hanno avuto salva la vita, ha sottolineato padre Pasquale Pitari, cappellano dell'ospedale pugliese, o almeno una migliore qualità della vita. Alla famiglia un sentito grazie per questo sublime gesto d'amore e ai riceventi l'augurio di una significativa ripresa della loro vita, nel nome di Sabina. La morte non dice l'ultima parola, la vita trionfa. Le esecue per l'ultimo saluto nella parrocchia Santa Maria Assunta, celebratipa dal parroco Don Rosario Greto. Tutta la comunità è rimasta sconvolta per la perdita di una giovane vita, ma grazie al gesto della donazione, Sabina continuerà a vivere avendo dato una speranza a tre persone che potranno tornare ad una vita normale. L'amore per il prossimo si vede in gesti estremi, in momenti di grande dolore e di disperazione. Emergenza Cinghiali, il sindaco di Montepaone è invitato a ritirare l'ordinanza per gli abbattimenti. Ora tutti sanno che la responsabilità è solo della regione. Da ormai diversi anni il territorio regionale è invaso da cinghiali, la cui proliferazione incontrollata è divenuta una vera e propria emergenza. Si moltiplicano le segnalazioni di cittadini che incontrano intere famiglie di ungulati, che in prossimità delle abitazioni non si contano più gli incidenti stradali causati da questi animali selvatici. Da ormai diversi giorni un cinghiale di grossa taglia pare essersi stabilito nel centro abitato di Montepaone Lido. Sono giunte numerose segnalazioni di avvistamenti, contanto di prove video la cui riproduzione è divenuta virale sui social. Il sindaco di Montepaone, preso atto della situazione e nell'ambito dei propri poteri di autorità di sicurezza pubblica, ha ritenuto di adottare un'ordinanza contingibile e urgente per ordinare la cattura o l'abbattimento di cinghiali selvatici allo stato brado che siano potenzialmente pericolosi, in quanto sconfinando dai loro habitat naturali si avvicinano all'abitato, nelle zone centrali o periferiche del comune di Montepaone. Tanto è stato deciso per prevenire pericoli per la sicurezza stradale, per la sicurezza pubblica e anche perché i cinghiali possono essere vettori potenziali di specifiche malattie infettive. L'altro ieri è pervenuta presso l'ente locale la nota della Regione Calabria, la quale, su segnalazione di un'associazione animalista, ha invitato il sindaco del comune di Montepaone ad annullare in via di autototela la propria precedente ordinanza, ritenendo che la stessa invade il campo giurisdizionale dell'ente preposto, ovvero la Regione. Pur ritenendo erronea la nota della Regione Calabria, la quale ha ignorato i poteri propri del sindaco, quale massima modalità sanitaria e di sicurezza pubblica e la sussistenza di tutti i presupposti per l'adozione di ordinanza contingibile e urgente, sostiene il sindaco Mario Migliarese, l'invito è stato accolto e ha annullato il provvedimento. Dunque, cittadini e amministratori sanno con certezza che ogni competenza e responsabilità per le situazioni legate alla presenza dei cinghiali nei centri abitati è di esclusiva pertinenza della Regione. Il Comune e il sindaco non hanno specifici poteri. La Regione, aggiunge, ha rivendicato che sin dal 2015 è impegnata per affrontare l'emergenza. Il problema è che i risultati non si vedono. L'emergenza, che tale non è più essendo ormai cronicizzata, continua e si aggrava. Gli avvistamenti proseguono senza sosta e di qualche giorno fa la notizia di un pastore è aggredito insieme al suo greggio di un branco di cinghiali. Sempre più spesso le strade sono interessate dalla presenza di grossi massi spinti in strada dai cinghiali. I comuni, peraltro, sono anche chiamati ad affrontare i costi per la rimozione delle carcasse dalle strade, costi che, in base a quanto sostenuto dalla Regione, da ora in poi, saranno addebitati alla stessa. Ci si attende dalla Regione che, con la stessa Solerse, con la quale ha rimarcato le proprie sfere di competenza, conclude adotti provvedimenti tangibili che producono risultati visibili per garantire la sicurezza e incolumità di tutti. Parco archeologico Scolacium. Parentela interroga il ministro Franceschini. Con specifica interrogazione, il deputato del Movimento 5 Stelle, Paolo Parentela, ha chiesto al ministro della Cultura se non intende assumere urgenti iniziative di competenza al fine di garantire la più ampia possibilità di visitare il Parco archeologico nazionale di Scolacium. L'atto parlamentare, spiega il deputato, nasce dall'inspiegabile quanto inaccettabile riduzione degli orari e dei giorni di apertura, dalla surda vicenda della visita di un gruppo di croceristi stranieri saltata di conseguenza e dalle giuste e più che condivisibili doglianze di Franco Caccia, assessore al turismo del comune di Squillace. Nella sua interrogazione, Parentela osserva che il Parco archeologico nazionale di Scolacium è bene culturale di primaria importanza e che al suo interno si trova, tra l'altro, il foro che è visitabile con la sua singolare pavimentazione in laterizio, la quale, per quanto si legge sul sito internet della direzione regionale Musei di Calabria, non ha eguali in tutto il mondo romano. Parentela quindi sollecita il ministro della cultura Dario Franceschini ad intervenire subito per risolvere il problema che sta già provocando, dice, danni al territorio e, in termini di immagine, purtroppo allo stesso ministero. Confido, conclude Parentela, nella sensibilità e nella solerzia del ministro perché il Parco archeologico nazionale di Scolacium possa essere visitato e ammirato ogni giorno, dalla mattina alla sera. Il Consiglio Comunale di Badolato ha approvato all'unanimità il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2021. Da evidenziare l'intervento del consigliere di minoranza Vincenzo Piperissa, che ha chiesto al Sindaco i motivi dei ritardi sul trasferimento degli uffici comunali della delegazione di Badolato Marina, nella sede comunale del Borgo. Da indiscrezioni sembra che i ritardi sono dovuti al mancato pagamento delle bollette, della luce, per cui non sono possibili i collegamenti ad internet, nei vari uffici. Il Sindaco ha garantito che il problema sarà risolto al giorni, sui lavori del Consiglio e le valutazioni del Sindaco Nicola Parretta. Il consuntivo chiaramente riguardava l'operatività dell'amministrazione precedente. Come ho rappresentato ieri un consuntivo che chiude con un avanzo di 375 mila euro, mi sembra adesso il dato esatto, non ce l'ho, che comunque necessariamente per obblighi di legge va accantonato e quindi non può essere comunque nella disponibilità del Comune. Ma è una situazione che se riusciamo a riprendere e concretizzare la questione dei tributi io penso che si possa gestire. Il nodo principale del Comune di Badalato, ma penso, ritengo, senza paura di essere smentito di tutti i Comuni, è quello dei tributi. Se riusciamo a gestire i tributi la gente paga meno, se pagano tutti la gente paga meno e il Comune ha la liquidità per fornire i servizi. Diversamente non arriveremo nel nostro modo. E questo significa che si può evitare un secondo dissesto? Ma noi lavoreremo, è chiaro che nessuno ha intenzione di parlare di dissesto o di altro. Noi stiamo lavorando e continueremo a lavorare per fare in modo che alle persone pervengano in tempi certi le cartelle relative ai tributi, che la gente possa avere possibilità di rietalizzare, di dilazionare, di vedersi tolti interessi, spese di tributi arretrati e poter nel tempo sanare la propria posizione. Riqualificazione sorgente Vrisi Al Comune di Gasperina un contributo di 50.000 euro Il Comune di Gasperina è beneficiario di un contributo a fondo perduto di 50.000 euro per il recupero e la riqualificazione della sorgente Vrisi, con annessi a beveratoi e lavatoio. Lo rende noto l'amministrazione comunale di Gasperina guidata dal sindaco Gregorio Gallello. Il contributo, puntualizzano gli amministratori, è stato concesso dal Galserre Calabresi. A conclusione dell'istruttoria dell'avvio pubblico, Palspes, intervento C2.1, acqua e pietra, recupero delle infrastrutture storiche caratterizzanti il paesaggio rurale. Gli amministratori, inoltre, fanno sapere che è stata prorogata al prossimo 24 giugno la scadenza per la presentazione dei lavori per partecipare al concorso multidisciplinare Conoscere se stessi per conoscere gli altri, un percorso interculturale di intelligenza sociale. Intercettato peschereccio con 102 migranti che tentava di spiaggiare sulla costa calabrese. Il dispositivo integrato di sorveglianza aeromarittima delle coste nazionali posto in essere dalla Guardia di Finanza si è attivato per quanto riguarda la Calabria a seguito dell'individuazione, nel pomeriggio di ieri, di un peschereccio di probabile provenienza turca diretto verso le coste ioniche. In nottata, tre unità navali, una del gruppo aeronavale di Taranto, attualmente di rinforzo agli assetti costieri calabresi della Guardia di Finanza, e due delle sezioni operative navali di Crotone e Reggio Calabria hanno monitorato a distanza l'avvicinamento del natante e quando le circostanze sono state favorevoli per agire con un intervento di polizia marittima, lo hanno intercettato e abbordato, prendendone rapidamente il controllo. Constatate le buone condizioni delle 102 persone a bordo, prevalentemente di origine afghana e pakistana, e la capacità del peschereccio di proseguire autonomamente la navigazione verso il porto più idoneo, lo hanno condotto sotto scorta verso Crotone, dove sono giunti. In porto sono proseguite le operazioni di polizia già iniziate a bordo dai finanzieri, per individuare i responsabili della condotta della navigazione e allatere le consuete attività di assistenza poste in essere, sotto legida della locale prefettura degli enti di assistenza ad esse preposte. Il dispositivo di prevenzione e repressione posto in essere dalla Guardia di Finanza in Calabria dall'inizio dell'anno ha portato solo per quanto riguarda il crotonese all'intercettazione di 15 natanti e all'arresto di 27 trafficanti. Per Teleionio, Anna Maria Colabrano. Incendi nella provincia di Crotone, vigili del fuoco al lavoro per tutta la giornata. Giornata di fuoco su tutto il territorio della provincia di Crotone, che ha impegnato sia le squadre ordinarie sia le squadre straordinarie in potenziamento per la lotta agli incendi boschivi dei vigili del fuoco. Le unità vigili del fuoco hanno combattuto contro le fiamme sia da terra che con mezzi aerei, a protezione delle tante abitazioni della zona residenziale Casa Rossa, Via Olimpia e Via Lichino. 88 sono stati i lanci effettuati dall'elicottero regionale ed 80 quelli del Canada e della flotta nazionale. Non si registrano danni a persone. Furti di trattori, arrestate 4 persone per ricettazione. Nei giorni scorsi a Reggio Calabria e Gioia Tauro, su disposizione del Tribunale di Reggio Calabria Procura, ufficio del GIP, a seguito di richiesta della locale Procura della Repubblica, i carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di 4 soggetti, tutti pregiudicati, per il reato di ricettazione in concorso con l'aggravante della recidiva reiterata. L'operazione giunge ad esito di un'attenta attività di indagine condotta dal marzo scorso dai carabinieri della stazione di Reggio Calabria, Cannavò, sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica. In particolare, le attività investigative sono state avviate a seguito della denuncia contro ignoti sporta da un cittadino presso la locale caserma dei carabinieri per il furto di un trattore e di altro materiale agricolo di sua proprietà nel capoluogo. Fondamentale si è rilevata a partire da questo evento l'attività infooperativa avviata dai militari dell'arma che ha permesso di constatare come il 23 febbraio scorso i carabinieri impegnati su strada nel corso di un normale controllo del territorio avessero fermato un furgone su cui era trasportato e occultato un trattore agricolo con caratteristiche sovrapponibili a quelle del mezzo oggetto di furto. Nelle circostanze i militari avevano sottoposto a controllo anche un'autovettura con a bordo tre degli odierni arrestati che precedeva lo stesso furgone e che alla vista della pattuglia aveva fermato spontaneamente la sua corsa in attesa di verificare l'esito del controllo in corso con evidente funzione da staffetta desumendosi come poi emerso dai successivi riscontri l'espressione di un comune interesse a quel trasporto. Il controllo incrociato dei dati emersi dalle verifiche effettuate ha infine consentito di ricostruire le circostanze del fatto e le condotte criminose degli indagati sintomatiche della sussistenza di una rete relazionale e funzionale ad immettere sul mercato nero quanto era stato oggetto di furto. Il quadro indiziario rassegnato dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri ha permesso quindi di raccogliere un dettagliato scenario probatorio e di identificare con qualificata probabilità i responsabili negli odierni destinatari della misura cautelare. La dinamica della vicenda per come ricostruita dagli investigatori dopo il primo vaglio da parte del giudice delle indagini preliminari dovrà ora trovare ulteriore conferma nelle successive fasi processuali. Fratele Ionio, Anna Maria Colabraro Controlli di polizia nelle preserre Trovate armi e droga nascoste sotto il terreno Continua l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio ad opera della Polizia di Stato di Vibo Valencia I poliziotti a seguito di una segnalazione per il ritrovamento di resti di un'autovettura sono intervenuti in contrada Andre nella zona delle preserre Vibonesi Le attività di accertamento volte alla comprensione della provenienza di quanto rinvenuto hanno permesso di notare al di sotto dell'autovettura una zona di terreno non omogenea per cui gli agenti hanno deciso di scavare fino a rinvenire un contenitore in plastica occultato al cui interno erano custodite armi e droga In particolare i poliziotti hanno proceduto al sequestro di una mitraglietta tipo Scorpion con matricola brasa e completa di due caricatori una pistola calibro 9x21 completa di due caricatori dei quali uno ha rifornito di 15 colpi e l'altro aumentato fino a contenerne 20 una pistola beretta calibro 6,35 un passamontagna nero e ben 527 cartucce di vario calibro Nello stesso contenitore sono stati ritrovati e sequestrati anche 300 grammi di cocaina pura Autobomba a Limbadi depositate motivazioni sentenza le parti civili mentirono La Corte d'Assise di Catanzaro ha depositato le motivazioni della sentenza per l'autobomba di Limbadi costata la vita il 9 aprile 2018 al biologo Matteo Vinci In 143 pagine i giudici togati e popolari spiegano il percorso logico-giuridico per arrivare alle condanne all'ergastolo nei confronti di Rosaria Mancuso sorella dei più noti boss dell'Andrangheta Giuseppe, Diego e Francesco e il genero Vito Barbara ritenuti i mandanti dell'attentato Ad incastrarli sono state le intercettazioni Dieci anni la pena per Domenico Di Grillo accusato di avere provocato delle lesioni gravi a Francesco Vinci padre di Matteo Vinci è miracolosamente sopravvissuto all'autobomba nel corso di una lite I giudici hanno tuttavia trasmesso gli atti alla procura di Catanzaro per procedere per falsa testimonianza nei confronti dei coniugi Francesco Vinci e Sara Scarpulla parti civili e genitori di Matteo Vinci il narrato dei coniugi Vinci Scarpulla risulta ampiamente ed oggettivamente smentito scrivono i giudici in sentenza in ordine alla proprietà del terreno conteso con i Di Grillo Mancuso alla presenza di una pistola nella lite fra Vinci e Di Grillo alla consapevolezza da parte della Scarpulla che era stata sua cognata a lasciarle un bastone dinanzi alla sua abitazione e non si trattava quindi di una minaccia dei Mancuso di Grillo atti in procura pure per il consulente della difesa Mariano Pizzianti per Teleionio Anna Maria Colabbraro Criminalità, sequestro di armi e droga a Crotone un arresto Operazione della Polizia di Stato nel quartiere Acquabona di Crotone nell'ambito dell'attività che ha impegnato personale della squadra mobile del reparto prevenzione crimine e della sezione cinofidi della questura di Vibo Valencia sono state eseguite otto perquisizioni domiciliari e identificati 20 soggetti di cui 13 con precedenti di polizia e penali con l'ausilio del cane antidroga di nome Digos della questura di Vibo Valencia sono stati trovati e sequestrati 35 grammi di marijuana 53 di cocaina un bilancino e tre armi perfettamente funzionanti in particolare si tratta di una pistola semi-automatica marca Bernardelli modello 60 calibro 22 che è risultata provento di furto un fucile semi-automatico e un fucile a pompa illegalmente detenuti una donna di 40 anni che aveva la disponibilità dell'abitazione dove sono state trovate le armi e la sostanza stupefacente è stata arrestata per detenzione illegale di arma clandestina e di arma comune da sparo ricettazione e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio i poliziotti hanno anche trovato un involucro di cellofan contenente 59 grammi di marijuana nascosto sotto alcuni rifiuti sul ciglio della strada vicino l'abitazione ed ora ci fermiamo per una breve pausa a tra poco cava di Monterosso assolto l'imprenditore di San Gregorio di Ippona è disposto il sequestro il tribunale monocratico penale di Vibo Valencia assolto da tutti i reati contestati il signor Domenico Pannia residente a San Gregorio di Ippona titolare di una delle cave più importanti sita nel territorio vibonese era il 22 febbraio 2017 allora quando i militari del corpo forestale dello Stato operavano un ingente sequestro di una cava sita a Monterosso Calabro nonché di tutti gli automezzi necessari per effettuare le attività di lavorazione dopo 5 anni caratterizzati da diverse udienze dibattimentali il giudice Anna Morica ha assolto l'imputato da tutti i reati a lui ascritti in rubrica dissequestrando e restituendo oltremodo l'intera proprietà ed area di cava legittimo proprietario l'imputato rispondeva di diversi reati di carattere ambientali oltre che dalla violazione dei sigilli considerato che tale cava situata nell'oasi del lago Angitola e ricadente del perimetro del parco regionale delle serre non poteva svolgere attività di estrazione di materiale sabbioso in quanto sottoposta a diversi vincoli di carattere ambientale previsto dalle normative vigenti in materia il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo che venisse riconosciuta la totale responsabilità dell'imputato con la condanna alla pena di due anni e sei mesi di reclusione la difesa rappresentata dall'avvocato Ilario Cosimo Tripodi del foro di Catanzaro a seguito di discussione ha confutato tutte le ipotesi dei reati contestati depositando copiosa documentazione con la quale è riuscito a smontare l'impianto accusatorio pertanto il giudice è ritirato in camera di consiglio ha dettato il dispositivo accogliendo in toto le richieste formulate dalla difesa ed ha assolto così l'imputato da tutti i reati contestati truffa alla regione su fondi per agricoltura riesame revoca sequestro per Leuzzi e Muraca il tribunale del riesame di Catanzaro ha disposto la revoca del sequestro preventivo di circa 500.000 euro disposto nei confronti di Nicola Leuzzi e Giuseppe Leuzzi difesi da Francesco Iacopino nonché di Ivan Muraca e Antonio Muraca difesi da Gregorio Ferrari e Frank Mario Santacroce il sequestro era stato disposto a fine maggio dal GIP e in base alle accuse gli indagati avrebbero percepito indebitamente aiuti comunitari erogati dalla regione Calabria destinati a finanziare l'avviamento di nuove aziende agricole per sostenere il ricambio generazionale nel comparto attraverso il sostegno all'inserimento di nuovi giovani agricoltori professionalizzati nel mirino erano finiti Nicola Leuzzi e Ivan Muraca studenti entrambi titolari di un'azienda agricola oltre a due loro familiari Giuseppe Leuzzi e Antonio Muraca in particolare si era ipotizzato che al di là del formale avvio dell'attività agricola i giovani beneficiari delle sovvenzioni non fossero in realtà agricoltori attivi ma studenti universitari fuori sede in quanto le imprese erano concretamente gestite dai rispettivi familiari contro il provvedimento del giudice e la ricostruzione della vicenda operata dall'accusa gli indagati hanno presentato istanza di riesame in particolare gli avvocati Jacopino Ferrari e Santa Croce hanno depositato memorie e consulenze tecniche chiedendo anche che i loro assistiti venissero sentiti il tribunale al termine dell'udienza e all'esito della Camera di Consiglio ha disposto la revoca del sequestro e la restituzione dei beni per oltre 500.000 euro complessivi sequestrati attrezzi di pesca utilizzati legalmente a San Lucido i militari della Guardia Costiera di Vibo Valencia Marina e di Getraro nell'ambito delle consuete attività di controllo della filiera della pesca a tutela del consumatore e degli stocchi itici nazionali hanno elevato sanzioni amministrative per un importo totale di 2.000 euro nell'area del porto di San Lucido il personale della Guardia Costiera ha rinvenuto attrezzi da pesca professionali detenuti illegalmente su piccole unità da diporto e ricondotti a soggetti senza regolare licenze di pesca che li utilizzavano in maniera illegittima in particolare sono state sequestrate due reti derivanti ossia una tipologia di attrezzo da pesca passivo che può essere utilizzato esclusivamente da pescatori professionali a determinate condizioni a salvaguardia degli stocchi itici e dell'ecosistema marino drangheta operazione stige in appello chiesta conferma condanne il pubblico ministero della dda di catanzaro domenico guarascio ha chiesto alla corte d'appello di catanzaro la conferma della sentenza di primo grado nei confronti degli imputati nel processo celebrato con rito ordinario nato dall'operazione stige il processo d'appello riguarda il 53 dei 54 imputati condannati in primo grado dal tribunale di crotone il 25 febbraio 2021 l'operazione stige nel 2018 ha fatto luce sulle infiltrazioni della cosca cirotana farao marincola nel tessuto politico ed economico del crotonese sono state complessivamente 180 tra esponenti del clan politici ed imprenditori le persone a processo tra il rito abbreviato per il quale c'è stata già la sentenza d'appello con 58 condanne e 14 assoluzioni e il rito ordinario il primo grado del rito ordinario che vedeva imputate 78 persone è iniziato il 4 marzo 2019 si era concluso dopo due anni di udienze con 54 condanne e 24 assoluzioni tra le condanne 30 anni per associazione mafiosa sono stati inflitti a Silvio e Giuseppe farao sono stati riconosciuti colpevoli di associazione mafiosa gli ex amministratori comunali di Ciron Marina l'ex sindaco Nicodemo Parrilla condanna a 13 anni e l'ex assessore Giuseppe Berardi 15 anni e 6 mesi l'ex primo cittadino di Strongoli Michele Laurenzano è stato condannato a 8 anni per concorso in associazione mafiosa il processo di appello ha sancito anche la definitiva soluzione di 24 persone per le quali non è stato presentato ricorso dalla procura tra cui ci sono molti imprenditori che erano rimasti coinvolti nell'operazione per Teleionio Anna Maria Colabrano per le quali di Cironi